che il video chi le dedica a chi che era più asu quella del del pez d'aprile quella del primo di aprile se non l'avevate visto andate a rivederlo quella dell'arancio ripeto se lo ricordate bene se no di avaldale sturiella c'è una riunione di frutti ognuno viene alla riunione il pom e il pear la pera e il lemon ma che che manca l'arancia l'arancia non va perché non va perché manda rino o è scherzo anche stavolta chi le nord pezzi d'aprile febbraio vabbè pazienza